Riunione tecnica di urgenza tra vertici delle ferrovie sud-est e funzionari del servizio tecnico dell'Ustif, nel corso della quale è stato definito un ulteriore piano di verifica e di entrata in servizio dei convogli ATR 220 PESA, finalizzato al ripristino delle normali condizioni di servizio garantito da ferrovie sud-est, nonché alla sostituzione di ruote e carrelli che a causa dell'usura rendono pericolosa la circolazione. Sulla base di quanto concordato con l'Ustif e con gli accordi di collaborazione, in corso di definizione con Trenitalia, che ritiene di poter mettere a disposizione in tempi brevi quattro rotabili, l'azienda ferroviaria ritiene che dall'inizio della prossima settimana, in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico, il servizio dovrebbe essere garantito, rientrando nella norma. Fino a domenica, al fine di permettere l'ulteriore verifica tecnica delle vetture ferme in deposito, la circolazione degli ATR rimane sospesa. Da questa mattina e per tutta la giornata 45 le corse cancellate, molte delle quali sostituite con bus messi a disposizione dall'azienda. Per quanto riguarda il calendario aggiornato, Ferrovie sud-est rimanda i viaggiatori al proprio sito, preannunciando che entro alle 16 di domenica prossima, sempre sul sito internet verranno comunicate corse e orari di lunedì 12, giornata di avvio dell'anno scolastico, un lunedì che non promette però nulla di buono.